Ciao a tutti amici e amici di Andu's Channel, benvenuti a Proviamola, la sera in cui andiamo per la prima volta insieme a giocare a un titolo nuovo, oggi Terminus Zombie Survivors. Se l'avete già visto avrete notato una grafica terrificante, molto old style, vi sarete chiesti come fa questo titolo ad avere delle valutazioni così alte su Steam. Me lo sto chiedendo anch'io, è un gioco survival zombie, voi sapete che su questo canale ho portato a tantissimi giochi, ad esempio Project Zomboid, tanti tutorial, gameplay e adoro questa ambientazione. Ma qui gli sviluppatori hanno voluto fare qualcosa di particolare, cioè hanno fatto un gioco di zombie a turni, con delle interazioni GDR, roguelike, interessantissimo, con una fine. Cioè quindi non è come Project Zomboid, la storia di come sei morto male, no, qui c'è veramente la possibilità di vincere, penso che ci siano 5-6 finali diversi, tipo scappare con una barca oppure arrivare a Terminus, appunto questa zona, questo safe haven in cui si può vivere in una comunità di umani. Quindi andiamo a giocarlo insieme, vediamo di che cosa si tratta. New game, e devo scegliere che tipo di lavoro voglio fare. Allora non posso ancora sblocare questi lavori, posso scegliere il soldato, il vigile del fuoco o il poliziotto. Ah, il soldato è più forte in mele, può usare anche il coltello. Mentre il poliziotto è più pistola. Prendiamo il soldato. E adesso posso settare... Questo, questo sono io. Cappelli grigi? Lui. Nome Andrew. Gli zombie infetti stanno attaccando le persone. La tua casa è stato un rifugio sicuro ma adesso ti hanno tagliato l'elettricità e l'acqua. Andiamo proprio bene. Ci sono poche supply rimaste, pochi rifornimenti. E nell'ultima comunicazione che abbiamo ascoltato si è parlato di Terminus, una zona in cui i sopravvissuti a questa apocalisse zombie sono rimasti. E se ci arriviamo potremo sopravvivere in modo sano. Ok, the game has four main panels, information, character, action, menu. Ci sono quattro menu praticamente. Statistiche, temperatura, qui c'è il giorno, qui c'è l'ora, qui c'è dove siamo, qui c'è il tempo. Ok? E qui possiamo vedere il nostro personaggio con lo zainetto, i punti ferita, la sazietà, l'ideratazione, l'energia e il morale. E poi c'è tanta altra roba. Se premo I, vado sull'inventare, nel momento ho praticamente un coltello da combattimento. Poi abbiamo i punti in movimento, 95, perché come agilità abbiamo 1. Siamo molto lenti. Ma attack power 200, facciamo il doppio del danno con il nostro coltello. Dodge rate 8, possiamo tipo schivare. Esperienza, per il momento combat instinct, l'unica cosa che abbiamo, facciamo più danno corpo a corpo. Le nostre statistiche e i nostri tratti, ok? Va bene? Qui ci sono invece le azioni, abbiamo il movimento, abbiamo l'attacco, il crafting, la cucina e dormire. Crafting non posso fare nulla, cucina non posso fare nulla perché non ho ingredienti, guardate quante posizioni si possono fare. Anche la pasta. Premo una carbonara per il possibile. E poi mappa, aiuto e menu. Aiuto? Ah no, non in quel senso. Mappa. Noi siamo qui. Qua ci sono posti pericolosi. E bene! Tre posti pericolosi e basta. E questo sono io. Vi chiederete come sono, come sono, come ho fatto ad arrivare in questa situazione. Andrew, stai bene? Allora, questo è il primo turno, per ricapire. Finestra, dresser, dresser, desk, bookcase. Andiamo a vedere un attimino nel nostro, nel nostro bookcase, vediamo. Nel nostro desk, scusate, cosa troviamo qua? Allora, possiamo fare una ricerca all'interno del desk, vuol dire la scrivania. E qui ci troviamo delle medicine, dell'adrenalina e delle pillole per dormire. Prendiamo tutto. Prendiamo l'altro dresser. E troviamo una chiave inglese, una lanterna. Questa sarà utile di notte. Poi prendiamo qui un altro armadietto. Un macete, un libro e una padella. Ne è finito il turno, però ho recuperato, ok. Qui trovo una bibbia e un libro. Prendo tutto la bibbia e spero che mi porti fortuna. E qua cosa c'è? Un refrigeratore. Quindi il nostro frigorifero. Andiamo a vedere se c'è del cibo. Un sacco di cibo! Però il fatto è che poi magari questo cibo va a scadere. Posso cucinare? Secondo me non avendo un forno davanti non posso. Mi pare di capire che qua non c'è niente di interessante. Ah, sono le nove di mattina intanto. Faccio il giro della casa per vedere se ci fosse qualcosa... Di utile ma non pare. Mi pare che ci sia qualcosa di... Ah! Posso prendere un ramo? Qui c'è un'altra location, ok. Praticamente vado da un'altra parte. Volevo recuperare allora il log, il legno. Tanto ho abbastanza peso addosso, non è un problema. Sono le dieci. Beh usciamo e andiamo da questa parte, dai. Abbiamo capito che la casa è sicura e non ci succede niente qui. Posso mangiare una banana? Penso di averla mangiata. Sazietà? Bene, sì. Uno successivo. Cambiamo posto, sono le dodici intanto. E abbiamo scoperto the house. Glass shard. Sembra che qua ci sia del vetro. E qui c'è del sangue. Io ho come l'impressione che ci siano degli zombie qua perché... Devono aver buttato giù la finestra. Il punto è che se adesso trovo lo zombie e non ho più punti feriti, cioè non ho più punti azione. Eccolo. Eccolo. Lo vedete? Lo zombie ci ha visto? Si avvicina, attenzione. No, ci ha graffiati. No, ma aspetta, aspetta. Allora, attacco la testa. Prendo il coltello. E gli do una coltellata, un instant kill alla testa. Va bene. Rug. Ah, ci aveva addosso tipo uno straccio. Ah! Wow! Questa è la casa. Qua ci sono posti non identificati. Qua è dove siamo adesso. Ma quasi quasi torniamo indietro... Per vedere cosa sono gli altri posti non identificati. Cosa dite? Locked. E proviamo ad aprire la finestra. Ok. No! Aspetta un attimo, aspetta un attimo. Voglio vedere se esce. Troppo lontano per un attacco come l'è. Vai, te l'ho ammazzato. L'ho proprio cecchinato così, zac, dalla finestra. I don't know how to get there. Entriamo adesso che abbiamo rotto la finestra. Pazzesco. Refrigeratore. Kitchen counter. Altro cibo. Intanto che ora sono le 16. Vabbè, visto che comunque poi sta roba scadde la lasciamo nel congelatore. Tanto penso che dormirò qui stasera. Fammi vedere. Dei guanti, delle potenti medicine e un orologio digitale. Scusate, fammi vedere allora... Lo posso indossare in qualche modo? Broken. Allora, i guanti li sto già indossando, mi pare di capire. Ok. Fammi vedere qua. Intanto abbiamo dei vestiti. Adesso tipo questo. Ok. Col destro posso indossare. Adesso ho un po' di... Ho un po' di protezione in più. Niente l'interessante. Niente l'interessante. Sono le 18. E voglio provare a cucinare, ma non posso, perché mi serve un campfire. E... No, beh, posso fare un'insalata. Perché ho i pomodori e l'insalata ho trovato. Cook. Perfetto. Ho cucinato un'insalata. Stasera ci mangiamo questa. Quindi adesso vedete che la sazietà è un pochino salita. E soltanto ci fosse qualcosa tipo stove. Posso fare un lettino qua? Vediamo se posso craftare qualcosa. Allora, intanto posso fare... Un'armatura facendo... Con il nastro adesivo e un... E dei libri. Questa è bellissima. Pazzesco. Clean water, clean water. Un po' di acqua ce l'abbiamo. Fresh meat la mettiamo in frigorifero. Mi sta piacendo, devo dire. Mi sta piacendo. Tanto è notte. Store item. Mettiamo la carne qua. Dobbiamo vedere delle arance, eccetera. Il resto l'abbiamo mangiato. E posso dire, dormi? Allora, ho cliccato su dormi e poi ho cliccato su fine turno. E gli ho dato l'ordine di dormire finché può. Adesso mi dice che è energico ma si sveglia le due perché è assetato. Ah cavolo, non l'ho fatto bere. Faccio bere un po' d'acqua. E poi io voglio dormire ancora. Non lo posso? Aiuto. Vabbè, allora recuperiamo un po' di cose. Qui abbiamo del vetro, del tessuto e qui abbiamo delle assi. Magari ho modo di craftare qualcosina di notte. Tanto che aspettiamo l'alba. Sono andato a letto ovviamente troppo presto. Facciamo questa armatura col libro, dai. Usiamo una bibbia e del... del tape e ci mettiamo tipo la nostra armatura. Effettivamente con queste due assi adesso posso craftare una lancia. E devo cliccare praticamente con il tasto destro adesso 15 volte. Perché ogni volta ho un crafting speed di 2. Ah, avete capito? E poi devo chiudere il turno, ritornare nel crafting e ancora una volta dare delle belle botte finché non ho ottenuto il mio mega armatura sul braccio con la bibbia arrotolata e il nastro adesivo. E la nostra lancia di legno. Non è male, non è male. Siamo un pochino più protetti. Voglio dire, nel caso in cui ci dessero un bel morsicone sull'avambraccio noi, tac, con la protezione divina ci salviamo. Sapete cos'altro che può proteggere? Vi faccio vedere un piccolo video. Durante un apocalisse zombie non sei mai al sicuro, anche quando credi di esserlo. Ma anche al giorno d'oggi è la stessa cosa quando state su internet. E se volete stare tranquilli, una VPN è d'obbligo. NordVPN svolge tantissimi ruoli, non si lamenta mai. Vi protegge dalle minacce del web, assicurandovi che la vostra navigazione resta in incognito e proteggendovi da malware e disavventure simili. Con il Dark Web Monitor verrai avvisato se la tua email associata all'account NordVPN verrà trovata nel Dark Web. Questo servizio è attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e ti avvisa immediatamente in caso di violazione delle tue credenziali. Quindi ti protegge prima che i criminali possano approfittarne. Inoltre vi permette di usare un server offuscato, quindi nessuno saprà mai che state usando una VPN. Qualora vi trovate lontani dal vostro paese, voi potete continuare a navigare come se fosse nel vostro paese preferito. Cliccate il link che vi lascio al primo commento di questo video. È un modo per supportare il mio lavoro, ma è anche un modo per navigare consapevolmente in sicurezza con NordVPN. Molto bene, adesso ho bevuto un po' d'acqua attorno al frigorifero. Mi sono dimenticato ragazzi che non è attaccato, non c'è elettricità, quindi cose comunque scadono. Recuperiamo l'acqua e il cibo, perché adesso voglio provare a vedere se riesco ad uscire per fare un fuoco. Qui c'è un bastone, magari ho la fortuna di fare un fuocarello e di cuocere la carne. Vediamo se abbiamo fortuna, close e dovrei cliccare su craft, vediamo se ho modo di fare qualcosa di utile per il fuoco. Posso fare del fertilizzante? No, grazie. Eh, manca il fuoco. Forse mi servirebbe un accendino. Può essere. Ok, ci sono dei libri che ho dimenticato, potrei leggere. Quindi adesso terminiamo il turno. Oh! Qualcuno sta battendo alla finestra. E sono le 6, quindi c'è luce. Facciamo che il libro lo leggiamo dopo. Eccolo, eccolo, allora. You have accumulated enough experience. The action for survival are ingrained in the body as useful skills. Praticamente abbiamo livellato. E possiamo fare l'istinto di combattimento numero 2. Melee attack damage più 100%. Orecchie fine. Oppure survival cooking dopo aver accucinato. No, vabbè. Ragazzi, combat instinct di livello 2. Perché adesso io col mio bel pugnalino. O posso cambiare l'arma. Allora, col macete è body attack più 50 head attack meno... Ok. Avete capito? Tutte le armi che ho posso selezionarle. Ma io prendo il fighting knife perché se glielo butto in testa è troppo lontano. E se prendo la lancia... A questo punto... Riprendiamo il nostro coltello da combattimento. Un colpo in testa. Due colpi in testa ed è andato. Diciamo che siamo molto cattivi. Ok, close. E... Diciamo che andiamo in un'altra direzione. Adesso sta casa l'abbiamo trovata. End turn. E prima di andare magari mangiamo qualcosa. Posso mangiare le arance che danno sazietà e... Un po' di hydration. E beviamo, dai. Avanti. Move. Move. Abbiamo scoperto la chiesa. Ok. Cos'è sta cosa? Primitive fire starter. Fantastico, ragazzi. Abbiamo trovato qualcosa che può far partire un fuoco. Recuperiamo l'asse. Qui c'è il pulpito. Da che pulpito viene la predica? Search. Abbiamo un libro di ricette e un bandage che può bloccare eventualmente il sanguinamento. C'è un cadavere. Decomposto, tra l'altro. Bellissimo. Abbiamo uno scritto. Ah, mamma mia. Abbiamo una revolver e un altro libro. Quindi un revolver, una pistola. Scrap metal. La pistola l'abbiamo tratta in chiesa. Siamo negli Stati Uniti, immagino. Qui possiamo... Qui ci sono delle porte. C'è il rischio che adesso degli Z ci magnino, ma... Fammi vedere. Ah no, si esce, va da in mente, da qui. Ok. Non c'è molto. Ah, io posso guardare anche sulle panche. Beh, però... Non c'è molto qui. Andiamo a vedere. Dovrebbe esserci una stanza. Forse quella del parroco. Troviamo una street map, mappa, e un altro libro di ricette. Che sono le 15. E una guida, ok. Ma se io adesso, tipo, prendessi uno dei libri e andassi a fare quello che dà il... Leg strike più il 25%. Quante volte lo devo leggere? Ah, 331 pagine. Ok. È chiaro. Io adesso posso far passare un'ora. E con tutti i punti azione che ho, se vado a cliccare qui, leg strike, lo leggo tutto. Praticamente adesso ho 95 punti, devo saltare il turno. E poi di nuovo. Wow. Lantern, non si può... Ah, si può fare con spazio. Perfetto. Adesso molto più comodo. Daytime ancora due ore. A questo punto le passiamo qui dentro a leggere. Non c'è problema. Abbiamo fame, però. Mangiamo le patate e la carne. Dobbiamo trovare il cibo buono, perché se no... È la fine. Ok, adesso è notte. Magari ne ho letto le 24 stanotte. Ok. Ok, life strike. Praticamente adesso posso fare più danni, immagino, con... Le armi. Iniziamo a leggere... Pathfinder. Bargaining. Lockpick. Wow. Possiamo fare... Leggendo questo libro, impariamo a scassinare, a fare gli archi e a leggere le radio. A capire, leggere. E a operare le radio, forse. Ok. Il morale è bassissimo. Il morale di questo nome è bassissimo. Ok, abbiamo scoperto che qua ci sono alcune... Alcune... Case. Allora, dormiamo. Finché l'energia è completamente ripristinata. E poi il giorno dopo andiamo a vedere in una di queste case vicino alla chiesa se... Insomma, possiamo trovare qualcosa. Vedete che il senso di sazietà è bassissimo. Magari possiamo accendere un fuoco e cuocere la carne che abbiamo trovato. Siamo affamati. C'è da andare assolutamente in una casa. Per fortuna abbiamo l'acqua. Questo almeno... Ci può aiutare. Passiamo il turno e andiamo da questa parte. Abbiamo trovato una casa. Osso, bastone... Dobbiamo il bastone... Dobbiamo il bastone... Qui c'è una porta. Qui c'è un sasso. Plastica. Chissà che cosa può servirci. Break door. Ok. Qualcchio in inglese magari. Dobbiamo rompere la porta. Wow. Non fa niente. Il macete? Il macete è un po' qua. Perchè ho perso dei punti perita. Perchè ho fame. Mi serve immediatamente un frigorifero. Trattano zombie invece. Quanti punti ho? Ce ne sono due ragazzi. Eh, non posso attaccarlo? Macete was broken. Va bene. Non so perché l'ho attaccato con il macete, però... Queste sono dresser... L'altro verrà sicuramente a cercarci entrando dalla porta. Ah no, sta cercando di buttare giù la finestra. Lo lasciamo fare. Questa è bellissima. Una radio dei fucili. Wow, questa è bellissima. Noci. Mangia le nozzoline per cortesia. Almeno non si muove di fame, dai. Vediamo se... Sì, sta cercando ancora di buttare giù la finestra, lo zeta. Ecco il frigorifero. Alleluia. Alleluia. Questa casa ti ha salvati. Però il morale è sempre bassissimo. Un accendino e un puntatore laser. Ok. Quindi adesso abbiamo un fucile, un mirino. Lo zeta entrerà e proverà ad attaccarci. Eccolo. Tre punti azione. Noi quanti ne abbiamo? Depress e affamato. Fado venire a me? Ne abbiamo nove. No, nulla. Non fa nulla. Rimane qui fermo come un paccalà. No, no. Aspetta. Fighting knife. In testa. Beh, come soldato è... Cioè, ti piace vincere facile contro questi. Vitamine e antidepressivi. Intanto possiamo prendere... Uh. Pilo di Arianna. Almeno 50% consumo di punti quando si va in un percorso che si... No, no, no. Head strike. Quando attacchi alla testa più 25%. Questo è ottimo. Sono le 15. Proviamo a fare un campo. Vediamo di craftare. Campfire. E adesso che ho fatto con l'accendino, ho acceso il fuoco, io posso cucinare la carne con la padella. Perfetto. E posso cucinare anche i vegetables. Perfetto. E adesso nello zaino, guardate che cos'ho. Fresh cooked meat. Che mi mangio. Sazietà altissima. E una bella arancia. Che mi tira su anche l'idratazione. Beh, insomma. Non è male. Non è male. E prendo il drink vitaminico. Però mi sono ammalato in qualche modo, eh. Come faccio, ragazzi, a... Cioè, la salute, scusate. È assoluta una cosa importante. Usiamo le medicine potenti. Che ci danno il male di testa, però. Ci siamo ammalati, scusate. Domanda una milione di dollari, questo laser sight. Non posso metterci la pistola. È bellissimo sto gioco, ragazzi. Io vi assicuro che è davvero bello. Vi faccio leggere un libro. Ho paura di essere stato graffiato dallo zombie e che adesso morirò. Questo è il problema. Vediamo, vediamo, perché... This is recovering. No, ok. Non sono morto. Ho mangiato, ho bevuto, ho preso delle medicine. Vedete che c'è l'iconcina. Però siamo ancora malati. Beh, ragazzi, io direi che... Questi episodi la chiudiamo qua. Spero che vi sia piaciuto. Ci vediamo appuntamento alla prossima. Grazie.